Buona settimana pubblico di Youtube! Questa settimana il Crazy Corner TV News quello che stiamo facendo il video di questa settimana è con Matteo De Martini! Ovviamente lui viene da Los Angeles quindi con i vari impegni si è fortunatamente liberato ed è qui con noi questa sera alla sede di Melzo in provincia di Caltanissetta vicino Los Angeles, giusto Andrea? Sì, noi siamo il Crazy Corner su Radio Sky FM 92.2 Ma ci manca un membro, ragazzi manca un membro che non è Matteo come sto indicando ma è il nostro DJ Dave raggiungiamolo, Matteo hai tu un conto ci vediamo di là, 3, 2, 1 siamo di là, eccoci di qua siamo qua con l'altra palla a destra Dave siamo qua con Dave ricordiamo Matteo l'ospite di questa sera ha venuto a sponsorizzare la ginnastica a parlare di se stesso a parlare di se stesso a parlare di se stesso per tutti i suoi 24 miliardi di follower e ci sono 6 miliardi nel pianeta Terra lui ne ha 24 miliardi come follower a livello universale a livello universale ci sono pure i marziani che lo followano ma che sbaglia? ma che in termine follower? non so ma follower quindi voi followatelo nel partempo abbiamo lì la nostra fotografa facciamo dire lunghissima spiona ragazzi abbiamo solo 27 secondi abbiamo 27 secondi fra poco torniamo in diretta ci vediamo fra pochissimo in questo video ma ci vedrete ci state già guardando seguiteci sul nostro canale Crazy Corner TV 3, 2, 1 ci vediamo settimana prossima ciao ciao